Il terremoto che nel 2012 ha colpito questa zona è stato nella prima sera, quella del 20 maggio, la prima scossa importante, nella zona di Finale Emilia. Sono corsa fuori, mi sono vista questa nebbia, questa polvere, io ho pensato subito fosse polvere, sono andata in strada e ho visto i miei vicini di casa in mezzo alla strada scalzi che sono corsi giù, mi sono voltate e ho visto che c'era il palazzo dei Veneziani, un palazzo del 1600 che era imploso nel mezzo. Non è finita lì perché il 29 di maggio, poi dopo un altro terremoto qui nella zona tra Mirandole, Cavezzo e Medolla, è qui allargato l'azione del disastro. Siamo stati graziati qui a Finale perché con tutte le pietre che sono venute giù, veramente non abbiamo avuto neanche un ferito grave. Adesso ho scoperto a piangere perché non mi aspettavo una, non dico tragedia, ma una cosa del genere. In un campo, in una palestra con 200 letti, 200 persone, era impressionante vedere come Mirella camminava in mezzo alle persone e salutava. Naturalmente file di gente che arrivavano perché i primi giorni poi i negozi chiusi, tutto il disagio di una popolazione che si trova in queste cose. Il mio negozio qui era chiuso perché era tutta zona rossa, perché era appunto crollato il campanile del municipio, qui davanti al mio negozio, quindi la piazza era proprio tutta inagibile. C'erano anche le famiglie che invece, ripeto, si rivolgevano a noi come Caritas e io da quelle 120 che ti dicevo prima me ne sono trovata 800, con 1.500, 1.800 persone da servire. La strategia penso che sia quella della Caritas da sempre, non abbiamo inventato nulla. Quella della prossimità proprio nella semplicità. Certo l'occasione del terremoto appunto essendo così forte che da una parte ha sconvolto qualcosa, dall'altra ha fatto emergere delle cose magari un po' sotto traccia. La difficoltà di aver perso dei punti di riferimento che prima c'erano e che adesso non ci sono più, le chiese prima di tutto ma anche solo il palazzo del municipio, gli ambulatori medici che erano in centro o le farmacie o i negozietti dove si era abituati ad andare, hanno smarrito molto le persone. Una conseguenza del terremoto è la distruzione dei luoghi di aggregazione. Sicuramente Caritas Italiana è intervenuta con una scelta, questa volontà di destinare quasi tutte le offerte raccolte anche alla costruzione di questi centri della comunità, che effettivamente sono diventati molto preziosi. Siamo stati ospitati a Cavezzo, da una famiglia di nostri amici subito, siamo andati là il 21 notte. Questo fare ricorso alle energie magari sopite o nascoste di una comunità ha voluto dire essere quasi costretti ad aprire gli occhi sui bironi degli altri. Nel frattempo però avevo aperto un punto di ventre giornali nel parco del seminario, ho chiesto di Roberto se mi dava la sua disponibilità. La necessità, il bisogno, l'urgenza di certe situazioni hanno creato una fraternità e un'amicizia che ci eravamo veramente dimenticati. E poi l'11 di luglio sono tornata qua in piazza. Si sta ripopolando un pochino però tenete conto che prima c'era un 4 bar qua in piazza e adesso ce n'è uno solo aperto. Con l'evento drammatico si cambia registro proprio, si trova il modo di essere utili. Un po' questo cambiamento dal torpore proprio ancora una volta paradossalmente è stato utile. Quindi il percorso del post-remoto secondo me può essere vissuto un po' come una sfida per fare tesoro di ciò che abbiamo vissuto e che ci rimanda a quelli che chiamiamo i valori che contano. Grazie a tutti.